Grazie a tutti Il titolare di una piccola impresa edile che lavora in zona, nella provincia di Messina, che vede tutti i giorni i problemi che abbiamo e che i comuni non ci danno nessun aiuto, nessuna informazione su bandi, zero totale. Siamo un settore abbandonato da noi stessi, tranne alcuni privilegiati. Le piccole tizze, le piccole società, vandovate proprio se stessi. Ho detto sì a questa candidatura con Giano perché inizia il bisogno di un volto nuovo, di trovare la sua faccia e la sua dignità che ormai da 35 anni ha perso.